ciao a tutti ragazzi stasera è uscito un altro ambo per firenze mentre su nazionale sembrava un ambo secco invece non è qui ma da un altro programma che adesso vediamo comunque 4 41 su firenze ambo secco eccolo qui 41 4 eccolo qui qui su firenze al 1 2 3 4 5 6 alla sesta al sesto ambo nei 12 da giocare 441 al primo colpo adesso andiamo a controllare le altre teniamo d'occhio 17 1 su nazionale perché qui non c'è perché sono usciti probabilmente dei capoggiochi perché i calcoli sono simili ma non uguali quindi andiamo a vedere le altre infatti guarda solo 17 in cui 441 eccolo qui ambo in quartina però mentre nel quaterno di john 441 1 eccolo qui vediamo se c'era un altro eccolo qui 441 2 ambi in due quartine cioè in quattro quarti non da giocare ma in due quarti ne sono uscite mentre 17 1 sto tenendo d'occhio quando sono 17 17 qui solo l'uno e l'uno per ora no però mi sa che andiamo a vedere un 17 91 e basta mentre qui 441 quello qui ambo in terzina e anche qui 441 ambo in nell'altra terzina con con un euro sono un ambo circa 78 euro per non mi ricordo adesso di preciso andiamo a vedere monster dog monster dog e quello qui 117 comunque nazionale c'è anche su sei numeri però è uscito almeno e mentre qui anche il 441 ecco qui firenze su sei numeri sempre primo colpo e niente controllato su per analotto ma mi sembra che non è uscito nulla e quindi volevo fare questo video e ricordiamo 441 a firenze primo colpo nel nei 12 ambi secchi eccolo qui è già un po che non usciva però ho fatto il video perché adesso è uscito un ambo e anche l'altro comunque su monster dog anche se non l'altro negli altri però dato su monster dog va bene ragazzi ci sentiamo un prossimo prossimo video speriamo che siano più ancora più vincenti mi raccomando scrivetevi se volete ringrazio comunque nuovi iscritti vecchi iscritti quelli che si iscriveranno come dico sempre ringrazio soprattutto quelli che mi acquistano i programmi ricordo che vi lascio i link dei miei programmi sotto i video e potete trovare anche l'accademia del rambo secco che è praticamente la spiegazione di dove io vado a prendere i calcoli per fare questi ambi secchi a primo colpo quindi niente ci sentiamo il prossimo video vi saluto vi ringrazio e la prossima speriamo bene dai ciao a tutti grazie a tutti buona serata ciao